Creare una rete di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere nella provincia della Spezia disponibile ad accogliere in caso di emergenza e per un massimo di 5 giorni donne vittime di maltrattamenti o di atti persecutori che per la loro tutela devono essere allontanate dalla propria abitazione in attesa di essere inserite in una delle case rifugio presenti sul territorio e prese in carico dai centri antiviolenza. E' questo il progetto presentato oggi dalla Confcommercio della Spezia e dall'associazione Vittoria che gestisce il centro antiviolenza di Sarzana mai più sola. E' agghiacciante tutti i giorni ascoltare queste notizie drammatiche sugli eventi quotidiani a scapito di donne indifese e quindi poter partecipare a risolvere sia pure in piccola parte questo problema almeno nelle prime fasi dell'emergenza è stata una cosa che moralmente ci fa tanto piacere. L'importanza è proprio quella di fornire alla donna che chiede aiuto nell'immediato una risposta di protezione sua e dei figli e l'importanza proprio di questo progetto è proprio il poter offrire risposte sull'emergenza. Già cinque le strutture ricettive associate a Confcommercio sparse nella provincia che si sono rese disponibili per offrire una stanza rifugio alle donne che ne avessero necessità disposte ad accogliere a qualsiasi ora del giorno e della notte. Su questo tema la nostra città, la Val di Magra, ha fatto importanti passi avanti. Prima di tutto ringraziamo l'associazione Vittoria che a titolo di volontariato si è occupata per tantissimi anni di questa terribile tematica nel nostro territorio. Oggi insieme a Lindbergh a seguito della vittoria di un bando regionale gestiscono il centro antiviolenza e siamo riusciti così a mettere a disposizione delle donne vittime di violenza una casa rifugio. Non basta e questo progetto allarga la rete e le sinergie appunto a Confcommercio e a Federalberghi che davvero con un progetto importante mettono a disposizione un primo soccorso ma anche un supporto per il reinserimento lavorativo delle donne. Tra gli obiettivi anche quello di creare opportunità vere di inserimento lavorativo e quindi di sviluppo delle autonomie economiche. Quello che stiamo cercando di organizzare in questa rete che speriamo al più presto si possa partire è quello di creare un posto di lavoro. Noi di terziario donne e del terziario in generale di Confcommercio ci stiamo attivando per garantire a queste persone che devono uscire di casa un lavoro, la dignità di essere autonome rispetto a questi mariti spesso violenti da cui a volte sono costrette a tornare.